Buongiorno, ci troviamo a Leima, la nuova edizione del 2021. Oggi vi presentiamo la nostra nuova macchina, la Robofox elettrica. È un trincia a sarmenti, a batteria, completamente elettrico, ma che ha un'innovazione, quella di poter ripetere perenne volte il percorso che è stato tracciato precedentemente dall'operatore. Questa soluzione avviene tramite un sistema GPS RTK con una triangolazione tra il satellite e l'antenna che può essere messa a terra. Questo è un sistema che praticamente fa lavorare la macchina in autonomia, tranquillamente, tagliando l'erba e quindi agevolando moltissimo chi la utilizza, sfruttando la tecnologia e ammortizzando nel tempo più breve possibile il costo della macchina stessa, anche perché non ha bisogno di particolari manutenzioni. Se non la ricarica della batteria stessa. La macchina può tagliare un'erba che va dai 15 ai 50-60 cm d'altezza. Ha una particolarità quella di poter modulare la velocità di avanzamento da 0 a 6 km ora e di poter regolare anche in autonomia l'altezza del taglio dell'erba stessa. Ha una frantumazione con un rotore che gira circa dai 3.000 a 3.500 giri quindi frantuma molto fine l'erba stessa lasciandola in terra. Non genera polvere. Il motore, essendo elettrico, non ha bisogno come un motore endotermico di poter cambiare i filtri, della manutenzione dell'olio o di quant'altro. Quindi soprattutto il suo impiego è negli impianti fotovoltaici dove la macchina viene ammortizzata e non ha costi aggiuntivi durante il suo esercizio in 3-4 anni si è ammortizzato. Più può essere acquistata in 4.0 quindi con le agevolazioni fiscali che lo Stato ci dà e in 3 anni si può recuperare il 50% del bene investito. Grazie a tutti.